Cari amici telespettatori, volevo intervenire sulle misure adattate dal governo per il nuovo DPCM. Secondo me sono provvedimenti sbagliati, lo dico al professor Ponte, lei ha sbagliato un'altra volta perché lei non può chiudere le piscine, non può chiudere centri estetici, non può chiudere bar e limitare i concerti in questa maniera. Non è la strada giusta per limitare il covid e glielo dico da persona espetta dei fatti in quanto di serietà, ne so più di lei sicuramente. E quindi insomma non credo siano misure giuste e soprattutto non credo che dobbiamo ascoltare Conte in tutto quello che ci dice. Rispettiamo solo le regole, portiamo la mascherina ma altro non dobbiamo fare. Detto questo vi do appuntamento al prossimo video e spero che lo guardiate ragazzi. Un abbraccio a tutti e a presto.